Inizierà a maggio 2016 la nuova campagna di scavi presso il Parco archeologico di Tortora. Oggi, martedì 27 ottobre, sono stati effettuati gli ultimi ritocchi alla richiesta da inviare agli organi preposti. A rallentare finora gli interventi era stato un cavillo rilevante e l'area su cui sorge il parco era un terreno privato. Con l'esproprio e l'acquisizione nel patrimonio comunale dell'intero lotto, tutto questo problema non ci sarà più. Ora è solo questione di tempo. Una cosa è certa, l'ente tortorese sarà libero di promuovere le iniziative di ricerca, essendo proprietario dei terreni. I lavori di maggio 2016, infatti, saranno finanziati con fondi comunali, o per meglio dire, l'ente comparteciperà con l'Università di Messina. Ognuno, insomma, farà la propria parte con i propri mezzi. Il comune, come nella tradizione di Tortora, supporterà in maniera fattiva la missione dell'Università, offrirà soprattutto ospitalità e supporto logistico per quanto riguarda le attività, a noi, ai nostri studenti, ai nostri laureati, al nostro gruppo di ricerca, starà invece di lavorare per meglio indagare il contesto del Palè Castro, per riportare alla fruizione nuove aree che, in un discorso di parco archeologico aperto, si inseriranno perfettamente e diventeranno ulteriore valore aggiunto per la visita al parco archeologico. Ecco, c'è anche un'altra novità, quella del museo, un rinnovamento che dovrebbe essere effettuato entro l'estate 2016. Allora, con il sindaco si è discusso anche di progetti di rinnovamento dell'esposizione, che ormai è datata, diciamo, perché sono passati 15 anni dal primo momento dell'apertura dell'esposizione, per cui abbiamo in mente di musealizzare nuovi corredi, quindi di mostrare nuovi bellissimi materiali, nuovi bellissimi contesti che vengono appunto dal territorio di Blanda. E soprattutto, ancora una volta, ci proponiamo per una collaborazione 360 gradi, in maniera tale che non solo il parco, ma anche il museo, possa avere un continuo e costante supporto scientifico da parte degli archeologi. Martedì c'è questo convegno alla Sorbona di Parigi, si parlerà di Tortora, si parlerà del Palecas e un po' di tutta l'area del Golfo. Sì, da martedì si parte per Parigi, ci saranno due relazioni sul nostro territorio, su Blanda. Io parlerò dei materiali, delle ceramiche figurate che vengono dalla necropoli di Blanda. Il professore La Torre farà invece una relazione su Blanda Tirrenica e sul territorio di tutto il Golfo di Policastro. Inoltre abbiamo preparato dei pannelli che verranno appunto esposti presso la Sorbona, presso l'INA, che è l'Istituto Nazionale di Storia dell'Arte Francese. Quindi ci sarà una massima visibilità delle nostre ricerche che saranno spero apprezzate anche in ambito extra nazionale.